Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono SpartanGio, come ne ha detto nome Vi farò vedere una piccola partitina così veloce Per SWOT C'è prendere 4, vabbè Spero che il video di, che cacchio Che il video dello scorso, del vecchio, 46K della Perfezione, mi piaccia Sì, molti dicono, cioè molti dicono che io quella partita l'ho buggata e l'ho fatta con alcuni miei amici Non è assolutamente vero, perchè io quelli neanche li conosco Quando giocavo ad A4 c'era soltanto uno, Viva Lonno Montotto, che lo conoscevo e che non stava giocando con me Vabbè, ehm, niente, non c'è da dire, aspettiamo anche finché cominci la partita Ecco, la partita è già iniziata, per cambiare Spero di non avere quella solita fortuna che sia un SHOTOUT, perchè se no mi scudo la partita Anche SHOTOUT mi sa un po' sul cacchio Allora Ecco, si parte Mi scuso per la scarsa qualità del video e che non ho molte apprezzature per registrare Sì, vabbè Sì, vabbè Ecco, te va anche Non ho scampato Non ho scampato Non ho scampato Non ho drifto Ma sono dei nardi nostri Vabbè, come potete... Eh, abbiamo così come con X. Sì, non è un albo solo 4, dopo che ho giocato molto alla Norincio, completando una campagna leggendaria, sono diventato un albo. Quindi, vabbè, una visione, non so guardate a dire. Questa partita non so come finirà. Ok. Eh, insomma, ho subito bene 2 kg, no, una chile, una morta, 2 kg. Vabbè, ma 5 uccisioni per vincere, questo è stato il video più corto che abbia mai fatto, è davvero. Cioè, subito 5 uccisioni per vincere. Beh, meglio così, almeno non mi entro in tasca un bel po' di crediti, anche se non ne faccio più niente. O qualcuno a dire. Arrivano qui, subito due di camper, no? Buono. Dove caggia solo? All'altro. Olè. Al prossimo uccisione vincere, olè, olè, subito. Vabbè, eh, eh, non so se fare un altro video. Quanto è largo sto qui? Quanto è largo sto qui? Vabbè, non ti faccio vedere un po' come se... Vedi sui servizi, giochi di guerra, ce lo su di 4.300, ma non 200. 4.220. Vabbè, mi sono usato un 4.000. Come potete vedere, sono già 130. 30, non lo permette da fare. Ancora. Prepie, mi campagna. Ferro. No, ancora, anche quello faccio ferro. 30. Un nome di precisione che... Ah, è molto matica, ci potrebbero uscire molti, ma vabbè. Se volete entrare nel mio clan, il vostro numero aperto per ora, basta che mi ha dato un messaggio a questo qui, questo qui, chile, tarita. Se volete entrare, non vi obbligo. Ah, e se pensate che il video non sia mio, Qua c'è il video, i due vidi, i due video che li ho fatti in una mesi su YouTube. Prima qua, boi, la mamadonna. Ecco, ho shotato tutte le mie, guarda, non so cosa è meglio. Ah, ma c'è il cocco. Oh, Cristo. Eh, andrò non sai se che sei. Aspetta, questo qui non è ragazzo, se non sbaglio. Madonna, troppo luce, troppa luce, neanche. No, non è ragazzo. Scusate, è che la telecamera non riesce a registrare come c'è troppa luce. Aspetta, forse potrei passare un po'. Scusate, ho sentito un po' di rumore. Scusate, ho sentito alzano. Lì sarebbe normale. Spero che questo video vi piaccia. Non parlo più, perché sennò, non so cosa dire. Se volete aggiungermi, fatelo pure. Aspetta, quando mi scelgo. Ah, vabbè, a voi in piacere chiesto, dimmi da qualcuno con cui non parlo più. e poi vorrei fare una partitina. Che vero, non si corre, non arrabbi. Per chiunque non lo sapebbe, se... per chi non l'avesse capito, io oggi ho shot out, me l'ho votata per avere una vengletta. Ecco, guarda, vedi. Faccio una camera. Ok, a posto. Continuiamo tranquillamente il nostro cammino, il nostro lungo viaggio. Perchè sono artisti spariti. Vabbè, va, chissolina mistica. Aiutami tutti. Si vede che io l'ho mai in mezzo da colpa. Perchè cacchio? Lo muoiono tutti, ma non vedo chi è che lo ammazza. Allora ce l'ho dietro. Ah, no. Da qui. Ok, ora si intende a cagare, perché sanno dove sono. Quindi, in te. Prepararsi all'impatto. 3, 2, 1, adesso per di me. Cacchio, cacchio, cacchio. Sembra vivo. Sembra vivo. Furia, non ci siamo. Furia, non ci siamo. Ok, lo dico, sto bestig... Cioè, sto camperando, scusate. Sto bestigando. Sto camperando, voglio proteggere la mia serie. Cioè, volevo proteggere la mia serie. ormai, ormai, ti fa metà... come dico sempre, o l'è. Ora non sto camperando. però sempre una dietro che mi serve. Scherzando. Però sono qui, eh. come va? Vabbè, non posso rifare la furia. pensavo di averlo ucciso. Eeeh, non lo so, ma credo che questa partita sarà molto corta. Hai visto che è bugato? Madonna voi. Cosa qui sopra? Che non lo faccio niente. Ok, bravo. Tendetta. Sto proteggendo quello là, se non l'avete ancora capito. Poi c'è uno lì. Non c'è questo. Ok, trollata colossale. Ora appare di là. Assistenza. Porca. Olè. Guarda, ma ti c'è chi? E vinciamo sta cacchia di partite in sta cacchia di mappa. E tutti i felici, tanto di più. di cui io, vada a fare. Come mai tutti come me oggi? Procita. Suona un leggente. Procita. Eccolo via. Cacchia. Brutta vacca, non l'avevo visto. Vabbè, questo sarà l'ultimo video che farò per ora. Perché vedo sempre Spartan volare di qua e di là? Grande, grande. Mi sto guida, mi sostinavo. Game over. Quintate per finire in bellezza. c'è il DMR conficcato nel call. Vabbè, raga, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Non vi oltre. Aggiungetemi 6box live se volete. Mi chiamo Killer, Killer, Killer Rita. Non scherzo, Killer Rita. Spero, un puttavoca, vabbè. Questo sarà un altro video. Vabbè, ci vediamo adesso. Ok. Ok. Grazie.